Benissimo. Allora direi a questo punto di stoppare la cinematica bidimensionale, occorrerebbe dire molte cose, con la speranza di vederci al più presto in classe per poterla completare. Tuttavia se la quarantena causata dal coronavirus si prolungherà, allora affronteremo successivamente il moto bidimensionale in generale. Volevo dire soltanto un'ultima cosa a conclusione del moto bidimensionale. Allora noi abbiamo detto, supponiamo per esempio di prendere un riferimento di questo tipo, l'asse x, l'asse y e qui l'orologio, supponiamo di lanciare una palla con una velocità iniziale che risulti essere non parallela all'accelerazione di gravità. Allora che cosa sappiamo? Abbiamo studiato che il moto è sicuramente parabolico. Ecco, volevo disegnare in un punto generico di questa traiettoria il vettore velocità e l'accelerazione. Per quanto riguarda l'accelerazione, in ogni punto di questa traiettoria parabolica l'accelerazione g risulta essere verticale. Quindi se li metto anche in questo punto, l'accelerazione g è verticale e sappiamo che ha valore costante 9,8. Come dobbiamo disegnarla la velocità? La velocità dobbiamo disegnarla tangente. Allora, adesso non do la definizione di retta tangente, va bene, però intuitivamente, l'avete visto anche in disegno che cos'è la retta tangente, la velocità deve essere fatta in questo modo. Naturalmente la velocità cambia anche in intensità, oltre che in direzione inverso, quindi in questo punto P1 la indico con B1, in questo punto P2 la indico con B2, mentre il punto iniziale lo posso indicare con P0. Quindi devo immaginare una traiettoria parabolica in cui in ogni punto il vettore velocità risulta essere tangente e in cui in ogni punto l'accelerazione di gravità risulta essere verticale. Abbiamo fatto diversi esercizi sul moto parabolico, quelli che vi ho dato sono più che sufficienti. Adesso però dobbiamo aprire un nuovo capitolo e il capitolo si chiama Dinamica del punto materiale. Dinamica del punto materiale. Il punto materiale lo indicheremo sempre da ora in poi con PM e una abbreviazione. Ricordiamo che cos'è la dinamica. Allora, la dinamica è quella parte della meccanica che studia il movimento in relazione alle cause che lo hanno prodotto. Ricordiamoci che le cause che producono il movimento sono in generale le forze. Però, a breve, cercheremo di precisare meglio la questione. Ricordate che l'anno scorso e poi anche quest'anno abbiamo visto la statica del punto materiale, la statica del corpo rigido. Abbiamo detto che il corpo rigido è un insieme di punti caratterizzati da certe proprietà. Invece noi, in seconda, vediamo la dinamica del punto materiale. Che cos'è un punto materiale? Allora, un punto materiale è sostanzialmente un corpo contenente della massa che possiamo assimilare come un punto rispetto alle distanze in gioco. Quindi possiamo indicarlo in questo modo. Questo è un punto materiale che nello spazio occupa una certa posizione P e ha una certa massa M. Abbiamo detto che quando siamo su di una macchina, la macchina non può essere assimilata ad un punto materiale. Quando però dall'ultimo piano del grattacielo guardo la strada, le macchine mi sembrano tanti punti materiali. Ecco, adesso prima di iniziare lo studio della dinamica, diventa importante analizzare i diversi sistemi di riferimento. Quindi dobbiamo fare adesso un'analisi dei sistemi di riferimento. Abbiamo già detto che cos'è un sistema di riferimento durante le lezioni, però adesso ripetiamo un pochino il concetto. Allora, abbiamo detto che un sistema di riferimento unidimensionale, quindi unidimensionale, unidimensionale, non è nient'altro che un asse cartesiano, va bene, munito di un orologio. Poi abbiamo detto che un sistema di riferimento bidimensionale è un sistema di due assi cartesiani ortogonali munito di un orologio, questo è un sistema due dimensionale, e infine abbiamo un sistema di riferimento tridimensionale formato da tre assi cartesiani mutuamente ortogonali OXYZ, questo si chiama tridimensionale. Attenzione, quest'ultimo sistema è quello in cui studiare in tutta generalità la dinamica di un punto materiale, perché come sappiamo un punto materiale si muove in generale nello spazio tridimensionale. Quando noi facciamo muovere un punto su una retta è chiaro che stiamo facendo una forzatura, no? Per esempio immaginiamo una macchina che si muove su una strada rettilinea, allora possiamo dire ah, la macchina la possiamo assimilare ad un punto che si muove su di una retta oppure quando una mosca si muove su di una superficie sulla superficie di una lavagna allora le zampette descrivono, diciamo, una traiettoria nel piano della lavagna. Allora, che cosa possiamo dire dei sistemi di riferimento? Allora, dei sistemi di riferimento perché i sistemi di riferimento vengono introdotti? I sistemi di riferimento vengono introdotti perché il concetto di moto il concetto di moto è un concetto relativo Facciamo un esempio legato all'astronomia Allora, quando noi diciamo che i pianeti insieme alla Terra si muovono intorno al Sole noi stiamo dicendo che stiamo considerando un sistema di riferimento nel Sole dal quale poi vediamo il movimento degli altri pianeti Facciamo un esempio tanto in scienze l'avete fatto Allora, voi sapete dalle scienze che la Terra ma anche gli altri pianeti si muovono, diciamo, su un'ellisse che studieremo, diciamo, in matematica il prossimo anno di cui il Sole occupa uno dei due fuoti Però, attenzione ragazzi Quando noi diciamo una cosa del genere noi stiamo pensando di studiare il movimento della Terra in relazione al Sole Quindi sostanzialmente prendiamo un sistema di riferimento solidale al Sole Generalmente si prende l'origine nel punto medio dei due fuochi Però possiamo immaginare che questo sistema di riferimento sia solidale nel Sole Tuttavia, noi possiamo anche dire che la Terra è ferma il Sole e gli altri pianeti si muovono intorno alla Terra Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che io sto prendendo un sistema di riferimento solidale alla Terra solidale alla Terra e vedo il movimento dei pianeti per esempio di un pianeta P in movimento rispetto alla Terra Questo pianeta descrive una traiettoria che risulta essere più complicata rispetto all'ellisse perché si chiama una traiettoria epicicloidale va bene? Quindi una traiettoria che va in avanti e poi torna indietro Allora, a questo punto quindi pensare che il Sole stia fermo la Terra e i pianeti girano intorno al Sole e pensare che la Terra stia ferma e i pianeti girino intorno alla Terra naturalmente sono tutti e due questi punti di vista accettabili naturalmente però da matematico guardando le traiettorie io sono convinto che tutti quanti noi optiamo nella scelta di un sistema di riferimento solidale al Sole perché la traiettoria risulta essere molto più semplice rispetto alla traiettoria epicicloidale che ho descritto qui quindi conviene prendere un sistema di riferimento solidale al Sole per descrivere il movimento dei pianeti Allora si pone a questo punto la seguente key question che studieremo che risponderemo che risponderemo nella prossima lezione quali sistemi di riferimento che indico con SDR conviene scegliere per studiare il moto quindi questa è una domanda centrale molto importante che darà luogo all'individuazione di una classe di sistemi di riferimento molto importante che si chiamano sistemi di riferimento inerziali quindi la 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 la